Buon pomeriggio e ben trovati a questa seconda edizione con le notizie dal web della città. Siamo online in questo momento sul canale Ustream di Torino e a partire dalle ore 17 circa saremo online anche su YouTube. Bene, partiamo subito con alcune notizie. Vi segnaliamo per quest'oggi alle ore 19 il corso Vercelli 15, il consiglio della circoscrizione 7, Aurora Vanchiglia, Madonna del Pilone. Vi segnaliamo poi alcuni lavori in giro per la città. C'è un divieto di transito in via Vassalli e Andi tra il Civico 26 e la via Palmieri per lavori edili e nella notte tra giovedì e venerdì. Quindi questa notte dal 1 alle 3 ci sarà la consueta chiusura del sottopasso Lanza Corso Massimo d'Azeglio per operazioni di pulizia meccanizzata. In manutenzione due semafori, quello di Corso Trapoli all'angolo con via Monginevro e quello di Corso Reumberto all'angolo con Corso Matteotti. Proseguiamo con le previsioni del tempo. In questo momento la rilevazione dell'ARPA Piemonte che potete consultare sullo page della città ci dà un cielo coperto e una temperatura intorno ai 7,5 gradi, non troppo distante dalla rilevazione della nostra stazione che ci dà 7,7 gradi. L'umidità all'87% e le previsioni per il resto della serata e per il mattino di domani sono costanti. Il cielo resterà coperto. Continuiamo con alcune notizie di cultura. Vi segnaliamo due appuntamenti. Quello con la Gewandhaus Orchestra Leipzig che si esibirà all'ingotto il 5 febbraio. Quindi questa sera alle ore 20 e 30 eseguirà la sinfonia numero 2 in re maggiore opera 36 di Beethoven e la sinfonia numero 3 in re minore la Wagner Sinfoni di Bruckner. Vi segnaliamo poi alle 21 e 30 sempre questa sera il concerto della Mimolo Caciulli Quartet che presenta al Folk Club il nuovo disco. Mimolo Caciulli ha lavorato per questo disco con il produttore Greg Coyle. Bene, ci portiamo avanti. Notizie dal web della città. Vi segnaliamo dall'home page una notizia che riguarda l'EBM Torino 2009. I giovani per Torino cercano 50 volontari per lo European Board Meeting, il meeting di studenti europei che si svolgerà a Torino dal 12 al 15 febbraio 2009. La riunione informativa si terrà sabato 7 febbraio alle ore 14 presso il Politecnico di Torino ed è comunque possibile iscriversi via mail o per telefono fino a martedì 10 febbraio. Chiudiamo questa edizione del telegiornale guardando la città attraverso le nostre webcam. Partiamo da Piazza Palazzo di Città, ci spostiamo poi sulla nebbiosissima mole antonelliana. Proseguiamo con Piazza Pitagora all'angolo concorso Siracusa in direzione nord e quindi finiamo con la rotonda autostrada Torino-Milano con un traffico regolare. Per quest'oggi è tutto, io vi do appuntamento all'edizione di domattina alle ore 9 e un quarto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.